Noi siamo Gas Studio, siamo una specie di collettività di persone di tante generazioni e razze diverse e abbiamo fatto una playlist che rappresenta fondamentalmente il tempo partendo da Earth, Wind & Fire, Queen, roba vecchia per voi giovani fino a delle cose che io non so neanche che cosa sono stile Meghan Trainor, all about that bass si, Pharoah Williams, happy perché siamo happy ma poi l'architettura è un highway to hell benvenuto al nostro incubo, highway to hell